Usando della tecnica del telaio e introducendo la moltiplicazione Ecco a voi la tavola pitagorica! E quindi si accolano quando il vigile lo permette E il carico si fa più pesante, è un centinaio, è un centinaio! E il carico si fa più pesante, è un centinaio, è un centinaio! E il carico si fa più pesante, è un centinaio, è un centinaio, è un centinaio! Come potete vedere l'otto per due si trasforma in due per otto e viceversa La stessa cosa, grazie alla nostra volpe, succede quando io faccio tre per quattro E anche il quattro per cinque Grazie!